Musica Ho iniziato ad andare in bicicletta per una necessità fisica, in quanto ho rotto un crociato giocando a pallavolo. Da allora non riesco più a lasciare la bicicletta e ho riscoperto la costa dei Trabocchi, questo territorio che già conoscevo da bambina, e immersa in questo paradiso miracolosamente il mio ginocchio è guarito. Musica 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 Musica